Era venuto a mancare il 3 gennaio di quest'anno a soli 46 anni. Improvvisamente se n'è andato il sindaco di Dolo, Alberto Polo. Nell'anniversario della nascita, martedì 17 agosto alle ore 18, è stata dedicata la pista ciclopedonale che vediamo in queste immagini e che collega Dolo a San Bruson. È stato inoltre scoperto un totem, ricordo del suo impegno pubblico. Domenica 22 agosto invece alle 20.30 in Piazza Cantiere il trio del Giglio ha interpretato un ricordo musicale per pianoforte ed archi in onore di Alberto Polo e a cura della fondazione Ugo e Olga Levi. Il ricordo del sindaco è affidato ad una sua frase ricorrente «Vivere è pensare ed operare» che aveva imparato seguendo l'insegnamento di Don Giuseppe Toniolo. Egli sentiva il peso della responsabilità, il sacrificio dei propri interessi, il limitarsi talvolta anche negli affetti, ma soprattutto l'interrogarsi e rendere conto come stile di vita. Toniolo fu un grande economista e sociologo cattolico nato a Treviso, proclamato Beato dalla Chiesa nel 2012. Fu professore universitario, educatore e promotore dell'azione cattolica. Di lui Alberto aveva parlato nel 2019, il 10 agosto nel corso di un incontro pubblico. L'amministrazione lo vuole ricordare nel suo spirito di coerenza. Abbiamo intervistato per Telecittà il vice sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto. Una azione che deriva da un pensare che Alberto ha saputo condensare in un'opera pubblica, fondamentale per la comunità di San Bruson, per collegarsi al capoluogo di Dolo. È la sua opera, quella che l'ha connotato e lo connoterà anche in uno stile ben preciso che vogliamo fare nostro, quello dell'umiltà, quello del passo dopo passo, quello della determinazione nel pensare e operare per gli altri.